Ecomondo Rimini La vetrina più completa nell'area euro-mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più avanzate e sostenibili per la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie. La gestione e la valorizzazione dell'acqua, delle acque reflue e dei siti e compatti marini inquinati. L'efficienza nell'uso e nella trasformazione delle materie prime e seconde e l'utilizzo di materie prime rinnovabili. Ecomondo è il luogo ideale dove connettersi con gli operatori dell'industria della green economy e dell'economia circolare, chiudere accordi commerciali, generare valore e acquisire clienti. Sono Andrea Giustini, presidente e amministratore delegato di Ecoridania. Ecoridania è il più grosso gruppo italiano nella raccolta dei rifiuti sanitari. E' un'esperienza che mette insieme la visione imprenditoriale e il mondo della finanza. Noi siamo stati i primi a scegliere di aprire il capitale a investitori istituzionali che hanno permesso la crescita. La crescita sia per linee interne, investendo in impianti e in tecnologia, che per linee esterne, aggregando aziende su tutto il territorio nazionale. E quindi avere una visione molto larga di quelle che sono le problematiche ambientali. Ecospray Technology è un'azienda organizzata come azienda impiantistica, realizza, produce e consegna impianti di depurazione e fumi in diversi settori industriali. La novità di quest'anno è una macchina in grado di eseguire l'upgrading del biogas in biometano. E' una tecnologia semplice sviluppata all'interno di Ecospray negli ultimi tre anni ed è una tecnologia basata sull'assorbimento della CO2 su zeoliti e della successiva rigenerazione. I prodotti per il futuro sono principalmente l'upgrading dei filtri elettrostatici per aumentarne l'efficacia e il rendimento al di sopra del 99.99% e altri prodotti quali filtri antiparticolato per il settore marino. Consea ha sviluppato una nuova applicazione per smartphone e tablet gratuita per Android e iOS rivolta alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi per offrire tutte quelle informazioni necessarie ai cittadini per partecipare correttamente alla raccolta differenziata. E' un'app innovativa, al suo interno oltre alle classiche funzionalità calendario, reminder, dizionario, rifiuti è stata inserita un'apposita specifica funzione relativa alla bacheca che consente ai cittadini di scambiare oggetti che hanno ancora un utilizzo anziché conferirli al servizio pubblico raccolto e quindi farli diventare rifiuti. I nostri prodotti sono 100% made in Italy e sono gli unici al momento presenti nel mercato ad utilizzare gas refrigeranti naturali R290. Blupur è l'alternativa all'acqua in bottiglia. I nostri refrigeratori collegati alla rete idrica possono servire grandi comunità come con il modello alle mie spalle, la Fontemagna City 1.0 ma anche i ristoratori e domestico. Per Ecomondo abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sui modelli per la comunità, per le città, per le municipalizzate e quindi per la gamma city. A questa fiera presentiamo per esempio il City Panel che è il nostro nuovo modello di pannello d'erogazione che si affianca alla City Wall un modello che ha già avuto un discreto successo in Italia. Oltre al City Panel e alla Blusoda abbiamo portato anche due modelli per la ristorazione per accontentare tutto il nostro pubblico che sono la Compact, un nostro classico, e la Blue Bar per gli amanti dell'aspillatura manuale.